Questo è il bagno, guardate davanti il caruccio. Anche questa è una parte del gioco e non sarà facile, a noi due, ciao! 10.46 qui a Lavana, il sole è ormai alto, abbiamo fatto colazione con uova, burro, prosciutto, bacon, questo è il salotto di casa, sovrammobili ovunque, a mani cani, come si può facilmente intuire, un altro noto Alex, quella è una parte della famiglia, Alexi, l'avuelita di Lei, l'avuelita di Lenea, l'avuelita sarebbe la nonna di Lenea, cioè la mamma di Lei, papà in bagno, questa è la sala da pranzo, cucina, composta cowboy, non mi ricordo come si chiamano queste porte perché sono molto bello, ho ben panizze, ma cos'è quella cosa? Praticiamo il tour, praticiamo il tour, è il bagno, occupato dopo va, va bene dopo va, Adesso si sale agli appartamenti superiori, i gradini sono stretti, bisogna stare attenti, da qui possiamo ammirare la nostra stanza, vabbè ve l'abbiamo mostrata già stanotte, però forse ieri togliamo in particolare delle mie mutande, le mutande sporche di Fabrizio, nascondiamole qui, sono fantastiche, meritano un primo piano, bella, Fabri grazie delle emozioni che ci regali, poi vabbè, poi c'è il particolare di questa stanza, la cosa più bella, c'è il letto con le palle che si levano, hai letto con le palle, rimetti la palla, ieri ci ha sfrantumato un po' le... stanotte col piede, ogni volta che muovo il piede questa palla partiva, alla fine l'ho tolta e abbiamo dormito senza palle. Questa è una delle due finestre e il cuore dell'Havana, l'Havana vecchia vecchia, specificiamo che questa non è l'Havana originale, l'Havana vieca, poi qui abbiamo il nostro... Questa è un'altra finestra, questo palazzo di fronte che magari vi... questo palazzo di fronte è la casa del cardinale dell'Havana, e quando il Papa viene in visita a Cuba viene in quell'edificio. Stanza freddissima. Stanza freddissima. Il condizionatore, sembra il frigorifero. Condizionatore a meno 5 gradi. Ah, aspetta, da notare una cosa. Milan. Il tifoso del Milan. Il genito ve lo presenteremo più tardi. Questa è un'altra finestra, qua è... Della vieca. Della vieca? Della vieca. Possiamo... Continuando... Ah, un'altra finestra, attenzione! Attenzione, un'altra finestra amici! Che cosa ci mostrerà mai questa bella finestra? Altra finestra. Altro scorcio della vanavieca. Probabilmente sei... Ma questo è il mio aiutante qua... Cioè, no, il mio aiutante, però io sto aiutando. mi hai detto Fabio che l'abbiamo già fatto vedere, però io ve lo faccio rivedere ecco, dicevamo che questo è l'Ucnessu da notare come ho ordinato il fiori su l'Ucnessu e il sole, ma il sole non l'avevo visto ma poi la casa bella è che c'è ma è fatto di rivedere il sole la casa bella è che c'è questa finestra, proprio sulla doccia che si affaccia a una signora, tu mi stai proprio e stamattina mi sono lavato con la finestra aperta e quindi? e mezza Havana poteva guardare le mie grazie o disgrazie mentre mi lavavo quadri di cavalli animali ma andiamo un attimo, soffermiamoci un attimo su un particolare oh, giuri tu! dopo dopo soffermiamoci un attimo su un particolare e cioè che tra queste foto c'è anche me, che sono anch'io in queste foto, cioè in foto in casa di persone cubane a cuba c'è anche un bifio e poi non so perché ero così arrabbiato con ieri cioè non lo so perché però si è cambiato molto prima cosa mi sono un po' allargato vabbè e quindi qui c'è il cino piccolo conoscete anche il cino grande Alessi un saluto agli italiani Alessi vabbè lei è una dei decani poi chi sei Fabri? e poi chi c'è a parte Sissy? e ma vai di... vai di su è un po' esterica vai di su e poi andiamo a decani vabbè dai spingo spingo vabbè siamo scesi da casa stiamo andando a cambiare soldi dobbiamo cambiare gli euro e non do la ricubana Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.